Il sindaco Vincenzo Ciampi questa mattina ai cronisti che hanno chiesto un chiarimento sulla notizia del ricorso al TAR del Movimento 5 Stelle per far scattare il premio di maggioranza ha ribadito che è un'ipotesi al vaglio ma che per ora nulla è stato depositato come dire che il ricorso è preparato e pronto ad essere presentato ma che per ora resta chiuso nel cassetto per valutarne la fattibilità. E in effetti i pentastellati fanno bene a prendersi un po' di tempo perché tecnicamente non è così semplice né così automatico. Iniziamo però a capire cosa succederebbe all'attuale fotografia in consiglio se il tribunale amministrativo dovesse accogliere il ricorso dei 5 Stelle. Dai sei consiglieri pentastellati più il sindaco in assise ne siederebbero 19 più il sindaco. Del gruppo mai più resterebbe solo il primo letto cioè Luca Cipriano. A casa Marietta Giordano e Leonardo Festa. Nel centro-destra resterebbero solo Sabino Morano e uno dei due consiglieri tra Ines Fruncillo e Lazzaro Iandolo. Il centro-sinistra e le sue sette liste a sostegno da 18 consiglieri passerebbero a 10. Fuori dal consiglio Dino Preziosi per la svolta inizia da te e Nadia Race del gruppo Sipò. La verifica chiesta è oggettivamente poco realistica. Quello che invece il Movimento 5 Stelle potrebbe fare è chiedere l'assegnazione del premio di maggioranza contro la tanto menzionata Anatra Zoppa per garantire la governabilità del Consiglio. Una possibilità che si è verificata già in altri comuni come Lecce, Avezzano e Bari che sono ricorsi al Tribunale Amministrativo. Nella storia della giurisprudenza però non c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato gli equilibri in regime di Anatra Zoppa. Le fibrillazioni nel fronte del cambiamento sono aumentate tanto da far parlare di crisi politica. La notizia del ricorso ha fatto ancora più imbufalire gli alleati perché i pentastellati avrebbero potuto muoversi in modo diverso senza danneggiare i suoi sostenitori al ballottaggio. Se ci fossero stati degli apparentamenti ufficiali tra il primo e il secondo turno con tanto di contratto scritto, i risultati del ricorso non avrebbero toccato gli alleati i cui posti in Consiglio sarebbero stati garantiti. Alla fine della fiera questo ricorso, o meglio la sola notizia trapelata, ha già destabilizzato quella che è stata definita la Santa Alleanza più della Natra Zoppa.